Speranza, Brunetta, Dell'Ai, Pisicchio, Tabacce e Di Lello, numero 600007, Giancarlo Giorgetti ed altri, numero 600008, Migliore ed altri, numero 600009, Carinelli ed altri, numero 6000010. I relativi testi sono in distribuzione. A facoltà di replicare il Presidente del Consiglio dei Ministri, che esprimerà altresì il parere sulle risoluzioni presentate. Prego, Presidente. Grazie, Presidente. Da europeista e federalista convinto quale sono, io non posso che essere felice del dibattito che si è svolto qui in quest'Aula. È il segno che quello che dicevano prima alcuni colleghi, prendo il collega Gozzi in particolare, cioè il fatto che il nostro Parlamento, grazie alla legge approvata l'anno scorso e grazie al Trattato di Lisbona, che dà importanza e ruolo ai Parlamenti nazionali e al Parlamento europeo, è in grado oggi di essere il luogo centrale nel quale la sovranità del nostro Paese si sviluppa, attraverso quel meccanismo che ho trovato molto positivo, che in tutti gli interventi si è ripetuto, il ragionamento di gli dica questo, gli dica quest'altro. Io penso che sia questo il compito di un Parlamento che incontra un Presidente del Consiglio che domani incontrerà gli altri 26 Presidenti del Consiglio dei Paesi europei. Ed è un concetto che dimostra innanzitutto la centralità di quest'Aula e dimostra anche il fatto che negli altri Parlamenti sta succedendo lo stesso, negli altri Parlamenti dei diversi Paesi membri sta esattamente succedendo quello che sta succedendo qui. Esiste cioè la necessità da parte di ognuno di andare a individuare i temi prioritari della discussione di domani, di caratterizzarsi, essere in grado di percepire qual è la sensazione che si traduca in realtà. E allora la discussione che abbiamo avuto è stata una discussione dalla quale trago molti punti di riferimento sicuramente fondamentali. In campo energetico sono stati molti gli spunti, in particolare sul tema dell'efficienza energetica. Vallascas ne ha parlato in modo diffuso e dicendo cose assolutamente, per quanto mi riguarda, condivisibili su quel punto. Così come Paolo Zan prima ha fatto una serie di riferimenti sul tema delle energie rinnovabili, dell'equilibrio e soprattutto della necessità di dare scelte di lungo periodo, scelte che siano stabili, non le scelte che il nostro Paese fa e cambia ogni sei mesi, perché sono quelle le scelte che rendono impossibile per l'Italia di avere una strategia energetica che sia effettivamente efficace. E gli altri punti che sono stati citati, ho colto l'intervento di Grimoldi prima sulla questione, secondo me, centrale delle infrastrutture europee da completare. O completiamo il sistema di infrastrutture, di reti europee sull'energia, oppure non saremo in grado di cogliere i vantaggi. Siccome noi siamo un Paese periferico abbiamo bisogno delle reti per stare dentro il meccanismo invece centrale, cosa che ritengo essere uno dei punti fondamentali del Consiglio di domani, che sicuramente porteremo nel Consiglio di domani. Così come le riflessioni sul rapporto tra le politiche energetiche e la crescita. Ovviamente tutto questo necessita una riflessione sul tema della sovranità, dell'accessione di sovranità. Ne ha parlato Marco Causi in modo diffuso, ne ha parlato il collega Alli in modo diffuso. Sono i punti sui quali la nostra riflessione su cosa vuol dire che trasferire sovranità a livello europeo non vuol dire perderla se a livello europeo ci sono dei meccanismi decisionali che ci consentono di decidere tutti insieme. Il problema è che su tanti temi, se ce la teniamo a livello nazionale, semplicemente la sovranità non c'è più, perché non è a quel livello che si riesce a decidere. Ho avuto modo tre ore fa, due ore fa, prima di iniziare questo dibattito, di avere un primo colloquio telefonico col Presidente della Federazione Russa Putin, impostando un lavoro comune che ci lega alla Russia per motivi evidenti. La questione energetica è una questione che un Paese come il nostro, che non produce energia, deve porsi come questione vitale, di vitale importanza. È una questione rispetto alla quale la logica delle reti energetiche, che veniva citata prima, la ritengo fondamentale. E quindi io domani andrò a porre agli altri colleghi europei, e scriverò a Varon Poi la lettera che citavo prima, sulla necessità di porre la disoccupazione giovanile come punto centrale del prossimo Consiglio europeo. E dirò anche, collega Sibilia, probabilmente alcune delle cose che lei stesso ha citato prima, che fanno parte di quello che io penso dell'Europa che va raddrizzata. Non dirò che dobbiamo rimetterci a fare debiti, perché penso che di debiti coloro che sono venuti, le generazioni che sono venute prima della nostra, ne hanno fatto troppi. E fare debiti non è mai una cosa positiva, perché finisce per ricascare sui nostri figli, sui nostri nipoti, e dobbiamo risolvere i problemi di oggi con le risorse di oggi, non usando le risorse di domani, perché è facile risolvere i problemi di oggi usando le risorse di domani. La politica vuol dire cercare di trovare le soluzioni oggi con le risorse che abbiamo oggi. Ed è questo il vincolo al quale mi sento impegnato. E questo vincolo lo sento dentro non perché me lo chiede l'Europa, mi verrebbe da dire perché me lo chiedono i miei figli, perché lo chiedono i figli di ognuno di noi che guardandoci non ci devono un giorno dire che la mia difficoltà è figlia del fatto che hai risolto i tuoi problemi con le risorse che aspettavano a me. E io credo che imparare tutti noi che questa regola è una regola fondamentale oggi, a prescindere dall'Europa o dalla non-Europa, credo che sia uno dei punti fondamentali del nostro stesso concetto di democrazia e di sovranità. Direi che è l'elemento centrale con la parola responsabilità, che è una delle parole chiave che noi portiamo. Ho trovato molto forte e ho molto apprezzato l'intervento di Paola Carinelli sulle questioni chiave della democrazia dei Parlamenti, perché è un intervento che condivido in pieno. Il Parlamento europeo dovrà essere, e questo sarà un punto fondamentale della politica europea dell'Italia, allo stesso piano del Consiglio europeo e della Commissione europea. È inaccettabile che ci sia un Parlamento europeo che è messo al terzo gradino della scala delle istituzioni comunitarie. e per noi questa è una scelta strategica che ci accomuna. Credo che il nostro Parlamento abbia su questo punto un vero punto di incontro e di intesa. E qui, attenzione, perché c'è un problema di regole, ma c'è anche un problema di comportamenti. Bisogna nei fatti che tutto questo avvenga. Quando è venuto qui a Roma il Presidente Schulz, il Presidente del Parlamento europeo, ha incontrato il Presidente Boldrini, il Presidente Grasso, abbiamo discusso a lungo di questi temi. Qui c'è una grande questione, ed è una questione legata anche al ruolo del nostro Parlamento, di questo Parlamento, della Camera dei Deputati e del Senato, sapendo che la farraginosità del nostro sistema istituzionale, motivo per il quale mercoledì prossimo, mercoledì della settimana prossima, 29, saremo qui a discutere di una questione che è fondamentale, la questione dell'inizio di un percorso che deve essere rapido, efficace e che coinvolga tutti i gruppi parlamentari di riforma della Costituzione, del nostro Paese, nella parte nella quale non funziona. Questo lo dico perché un sistema farraginoso, che non è efficace, ha portato quella cifra che la collega Carinelli citava prima, ha fatto bene a farlo perché è una delle cifre della vergogna nazionale. Il fatto che noi abbiamo quasi 100 procedure di infrazione con l'Unione Europea e che siamo il Paese più multato dei 27 Paesi europei rappresenta per noi una vergogna nazionale. E il fatto che sono 20 anni che ci trasciniamo purtroppo questi ritardi e che oggi ci troviamo in questa difficoltà e paghiamo, come giustamente veniva detto, multe quotidianamente su questi ritardi perché non riusciamo a star dietro alle regole e siamo gli unici che non riescono a farlo in questo modo. È una grande responsabilità che sento come Governo del Paese. L'impegno determinato a far scendere questa cifra di infrazioni e di multe e di sanzioni è un impegno che ci mettiamo tutti, è un impegno in cui siamo sulla stessa barca, Governo e Parlamento, perché molte di queste infrazioni e molte di queste sanzioni sono norme che devono essere approvate dal Parlamento e che dobbiamo assolutamente riuscire ad approvare. E quindi torniamo a quel ragionamento sul deficit di democrazia che citava anche il collega Rampelli prima e che è il punto sicuramente fondamentale della nostra discussione. Noi andremo domani con l'impegno di mantenere i nostri impegni e come ha detto Buttiglione prima diremo anche agli altri che gli impegni si devono mantenere, perché quello che il 28 e 29 giugno dell'anno scorso su proposta di Monti e di Rajoy il Consiglio europeo ha approvato è rimasto ancora lì. Letta la morta, sono passati dieci mesi e non è possibile, perché questo è il motivo per cui l'Europa non è credibile per i cittadini. Perché tutti abbiamo nella memoria l'immagine della conferenza stampa e degli annunci e dei giornali di quel Consiglio europeo nel quale tutti quegli annunci venivano contrabbandati come il futuro che finalmente diventava realtà e oggi, dieci mesi dopo, siamo a constatare che quegli annunci non sono stati concretizzati. Questa è l'Europa che dobbiamo cambiare. E questo è il motivo per il quale l'impegno che voglio che tutti insieme mettiamo e che noi ci metteremo con grande determinazione sia ad andare a Bruxelles a cercare di far sì che attorno a questi temi si cambi passo. Vorrei che questo accadesse sapendo gli altri che anche noi, come gli altri Paesi europei, abbiamo un Presidente del Consiglio che va a Bruxelles e può dire che questo non lo posso accettare, non lo posso fare, perché il mio Parlamento mi ha detto che questo non lo posso accettare, non lo posso fare. E questo punto è un punto che unisce profondamente governo e Parlamento, perché la differenza, veniva detto prima, riprendo ancora e cito ancora la collega Carinelli, la differenza tra l'Europa intergovernativa che non vogliamo e l'Europa dei popoli e l'Europa comunitaria, che invece è quella che noi vogliamo e che vogliamo che si costruisca con maggiore forza. E quindi termino dicendo che rispetto alle risoluzioni che sono state presentate, mentre sulla risoluzione 07 do parere favorevole, lo stesso parere favorevole, perché il testo è molto simile, lo do alla risoluzione 08 con un unico punto di interpretazione, cioè che il punto che veniva citato prima dal collega Grimoldi sul referendum, che mi trova e ci trova d'accordo, nel senso che il passo agli Stati Uniti d'Europa non potrà non avvenire con un momento di partecipazione popolare dei popoli europei. Ovviamente la constatazione che devo fare è che questo deve avvenire dentro le regole della nostra Costituzione repubblicana, come è ovvio che questo debba essere, ma penso che questo sia condiviso dai colleghi che hanno presentato questa mozione. E devo dire che tante argomentazioni che sono contenuti nelle risoluzioni 0-9 e nella risoluzione 0-10, che sono assolutamente condivisibili, così come gli interventi che ho ascoltato del collega Paolo Zan o degli altri colleghi del gruppo del Movimento 5 Stelle che hanno parlato, tuttavia non mi consentono di dare parere favorevole, perché nelle due risoluzioni che ho citato, il passaggio sulla necessità di rinegoziare trattati che realisticamente non saremo in grado di rinegoziare, noi possiamo affiancare a quei trattati le politiche per la crescita che sono fondamentali. Ma realisticamente l'idea che noi siamo in grado oggi di dare un mandato al Governo perché ci sia una rinegoziazione di trattati che non saremo in grado di rinegoziare, credo che un senso da parte mia di realismo e di serietà nei confronti del Parlamento mi obblighi a dire che questo purtroppo non è realistico, non è ragionevole e non mi consente quindi di dare parere positivo a quelle due risoluzioni. E mi dispiace dover dare parere contrario perché sono due risoluzioni che invece hanno al loro interno molte altre constatazioni, molti altri spunti che io porterò con me a Bruxelles nel cercare domani, il 27 e il 28 giugno e se saremo sempre qui o comunque qualunque Governo ci sarà a far sì che il semestre di Presidenza italiana dell'Unione Europea dell'anno prossimo, della seconda metà dell'anno prossimo, sia quel semestre di Presidenza che fa fare all'Europa il salto verso gli Stati Uniti d'Europa che rimangono per me e per il nostro Governo il sogno e l'ambizione principale. Grazie. Grazie. Poiché nel corso della seduta potranno avere luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di 5 e 20 minuti previsti dall'articolo 49,5 del Regolamento. Passiamo ora alle dichiarazioni di voto. È iscritto a parlare. Il deputato Di Lello ne ha facoltà. Due minuti. Grazie, onorevole Presidente, onorevoli colleghi. Ringrazio davvero il Presidente del Consiglio per aver voluto un dibattito e un voto parlamentare che di certo gli darà più forza. Non è questa la sede per analizzare fino in fondo le cause della crisi economica globale.